Sì, non si fa, o se lo fai, o se lo fai di sinceri, o non ci... Appena prima che escono ti dicevo, guarda, se stai portando questo è lo screen giusto, sono cambiati, sono cambiati, sono cambiati, sono cambiati, erano due parole, non ero un convincente, siccome eri sempre nell'ultimo minuto, cioè mai ti viene in mente di pensare che uno ti cambia in mente, non era diverso, non c'è solo due parole, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, sicuramente più interessante. No, non c'era già la squadra nuova, c'era ancora la vecchia squadra, ah, c'era la Chiara di soffra, anche nella parte dell'inite c'era la norma, anche con la stanza, sì, la seconda ragazza, non c'è loro, è una mandatoria, cercano la porta, non c'è nessuno, licencio con la buona, quindi la jerarca fuori, grazie a Wille eINA, thousands via, ah, 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 ah ah, ah ah , non c'è nessuno, Grazie a tutti. Per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture lacciate fino a quando il segnale luminoso vera spento e a mantenere i telefoni e i cellulari disattivati fino all'apertura delle porte. Vi accompagniamo inoltre di aprire le capelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti. Grazie per la collaborazione. Grazie a tutti.